Sparite voi altri! E indietro, o te la vedrai più! Fermo! Vai via! Sta allontano! Come mai sono così calmi? Basta! Non provocavi! L'aria proviene dalle catacombe! Ah... Cosa disse? Senza i camini quel posto si riempirebbe di fumo. Oh, ok. Non va bene, no? Già, direi che non va bene affatto. Calma, amico! Non tutti abbiamo studiato quei fratelli mongolfier prima di darci al fumo, sai? Adesso andiamo a guardare! Ma senti di cuntana! Distruttivo, bisogna dire. Adesso te la prendi con noi! Basta! Non provoca! Via di qui! Non ci sciagli si sente! Oh, no! Non lo so! 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 Ah, ah! Basta! Ma che fa il grande mort? Cagli! Pegli di puttana! Apriremo il fuoco! Prends en garde au casque... Tate en rigue, agente! Via dalle strade! Mais c'est quoi ça? C'est l'heure, j'ai développé mes autres chants! Malfaisant, je t'en moussure. Regarde ça, tout allait bien, quand tout d'un coup... Qu'est-ce qu'il y a fumer... 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 Tu verras que c'est révolutionnaire... On peut faire ce propre à mes rois... Et toi, tu verras que c'est plus vite que possible... Et tu se prends de la fumer... Qu'est-ce qu'il y a fumer... Aller chercher Perron et Sacariol... Donnez mon entreprise, et venez ici, à la capitale... Un espion, ou plutôt un voleur... Bastardes! Nous savons que vous êtes là! Inutile de vous gâcher! Nous l'aurions fait ce que vous êtes! Une liberté, une bêtise! Quand nous serons expolus! Reclamez la marche et n'a pas d'autre! C'est l'autre! Non ce la faranno mai senza aiuto! Non ce la faranno mai senza aiuto! Ora rallentalo! Non mette il mascarlo! Non mette il mascarlo! Non mette il mascarlo! La pagherai! Quei bastardi li fanno! Ah! 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 Ah ! Allora! Yes! Yes! Ah! No! Non metto ici! No Overpassado... Vediamo di случ来... Non metto, non metto! ...mesmer Yes! Qu'estашirer! che si serva di lezioni orti a tutti gli amici della libertà la pagherai cara la pagherai 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 State uniti, uomini! Amori, falso patriota! Amori, assapito! Ti asspito! No, non mi scoglierai! State uniti, uomini! Trochiamo l'assassino! Si trova qui! Che pena! Né in posizione, uomini! Non mi scoglierai! Buongiorno! Scoglierai! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma forse non furbo quanto... Brutta notizia! Siamo rimasti solo io e io, assassino. Vieni fuori, vicina di merda! Ti fidi a me? Mi ami nascosto! Vecchio di troia! Che bello! Molto furbo, assassino! Vieni, 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 vieni! Vieni, vieni, vieni! Da là sono si va dritti all'inferno! Non così vicino! Vieni, vieni, vieni! In posizione, uomini. Molto bene. Molto bene. Se la smetto di scappare, ti prometto che ti ammazzerebbe. Ti vedo. Andiamo, fatti vedere se hai il coraggio. Ti ti ha volentato. Ma ti prenderò. Scusate, io ti vedo i ragazzi. Vieto di vedere, assassino. Molto furbo, assassino. Ma forse non furbo, pantone. Non vuoi, facciami. Così non vedete. Cazzo, ma chi è stato a uscire? Ecco, tigre. Andiamo, fatti vedere se hai il coraggio. Siamo rimasti subordretti, assassino. La, la, non così vicino. Quale trofeo prende a venta? E diamo le successo. Merda. I miei sudditi hanno occhi ovunque, signore. Metterò le informazioni a servizio dell'ordine. Quale informazioni può darci il re delle foglie? Intrighi fra ratti. Puoi andarmi. Intrighi fra ratti. Pomposo idiota, se gli metto le mani addosso. Il mio padrone vorrebbe rimediare. Fratello. Tutto bene, signore? Troppo champagne del re? Si va, vieni via. E' fatta. Della sera è morto. Gran maestro. Bravo. Si prenderà, bastata! Per prima cosa ti spezzerò le gambe. Così la spezzerai di fuori. Qualcuno spezzerà il fuoco! Quel bastardo è sotto il nostro naso. Non ha letto buo. Quel bastardo è sotto il nostro naso. Qualcuno spezzerà il nostro naso. Grazie. Giusto il tempo per l'inizio del mio regno. Il tuo regno? Finché ci sarà una corte dei miracoli, ci sarà un ruade. Dal momento che il posto era libero, ecco qui. E con che velocità il corpo è ancora caldo? Diciamo che ho tirato i fili giusti in anticipo. Da quando sei arrivato alla corte dei miracoli? Mi hai usato. Hai ucciso il reno. Quindi è reciproco. Che regno hai ereditato? È così, vero? Allora? Giustizia è fatta, hai vendicato un orto. Ti sei placato in mezzo al marcio. Marcio, dici bene. Ogni volta che mi sento vicino alla verità, ecco che si presenta un nuovo strato di sudiciume. Cospirazione! Intrigo! La trama si infettisce. Qualche pervertito è un prete lascivo e avrai l'inizio di un grande romanzo. Preferirei un buon indizio. Così giovane. Eppure così sai. Bene. Buona fortuna. Hai già visto questo, suppongo? Dove l'hai preso? Me l'ha portato uno dei miei nuovi sudditi in segno di stima, credo. Oggetto curioso. C'è un solo argentiere che lavora in metallo così. Una lama come questa ha ucciso De La Serra. Ma immagino che lo sapessi già. Perché non l'hai detto? Dove sarebbe l'uomo se non dovesse mai fare domande? Se tutto gli venisse offerto su un piatto d'argento? Non saprebbe neanche più farsi domande. Oppure potrebbe arrivare ancora più in alto, libero dall'ignoranza. Forse. L'artigiano è François Thomas Germain. Proverai la sua bottega vicino alle sale. Grazie. Buona fortuna. Buona fortuna. Grazie a tutti.